Ve ne sarete accorti, non è il solito appartamento. Partiamo già da questo terrazzo, molto bello e ampio, con una bella vista, sfruttabile. La palazzina ha solo due piani e l'appartamento è all'ultimo piano. E non è solo grande il terrazzo, anche la metratura interna è molto generosa. Venite con me! Iniziamo a scoprire la zona giorno. Come potete vedere la luce non manca essendo all'ultimo piano. Qui abbiamo la zona relax, il soggiorno è doppio, dove in un'altra area abbiamo il tavolo grande per i pranzi e per le cene e lo spazio dove c'è un suggestivo cammino per le sere invernali. La cucina è separata dalla zona giorno, quindi rende la cucina abitabile. L'immobile è pensato per le famiglie. Abbiamo un quattro locali e mezzo più una zona studio e la zona notte è divisa in due aree separate. Qui abbiamo le due camere. La prima, molto luminosa, si affaccia sul terrazzo. L'appartamento in totale sono circa 170 metri quadri. Qui abbiamo la seconda camera. E hanno il bagno personale con vasca, già con il lavabo doppio. Porta a vedere l'altra zona notte. La camera master è molto particolare perché è divisa da un grande armadio a muro con il suo specchio e il bagno personale e la zona notte. Un valore aggiunto della nostra abitazione è questo spazio che si può utilizzare come locale hobby o come camera dei giochi. Questo appartamento ha moltissimi vantaggi. Innanzitutto sono ammessi gli animali. Abbiamo due posti autocoperti più un esterno. Ci sono i fotovoltaici per garantire il risparmio energetico sulla luce. E abbiamo un parco con la piscina e un parchetto condominiale da sfruttare.